salve questo è l'ultimo mentor spero di non avervi annoiato troppo con i precedenti video il mio problema era quello di non essere troppo pesante e quindi di consentire una visione tramite youtube e altri canali e quindi di non annoiarvi troppo può darsi che la mia superficialità poi si sia rivelata anche controproducente ma credo che qualcuno ormai sia in grado di muoversi in second life autonomamente non voglio però lasciarvi senza tre consigli cartacei un primo consiglio per chi voglia approfondire l'argomento di second life è di leggere la guida ufficiale se vi capita di trovarla in libreria essa può essere un utile strumento di consultazione se invece la trovate solo in biblioteca la sua lettura potrà servirvi per avere un'idea dell'evoluzione storica del fenomeno oltre che della piattaforma e anche di vedere come gli intenti educativi siano stati sempre in cima ai desideri e alle finalità dei linden un secondo consiglio cartaceo è guida facile alla tua prima second life di Lou Coronet che vanta di essere il primo libro scritto da un avatar in effetti questo libro è molto pratico e quindi può servire sia per imparare a muoversi sia per imparare a costruire sia anche per visitare i siti che possono essere sfruttati nell'insegnamento il terzo consiglio è un libro di piccolo volume ma abbastanza prezioso di Italo Losero second life scuola e didattica in questo libro scaricabile dal sito lulu.com l'autore fa una sintesi delle attività che possono essere precipue di questi mondi virtuali non solo di second life e poi indica alcune possibili strade per un impiego didattico di second life il libro come dicevo è di poche pagine però è molto interessante per gli argomenti che tocca e per il modo con cui li affronta anche le indicazioni di navigazione sono abbastanza preziose e corredate di spiegazioni ho voluto limitarmi a testi solo in lingua italiana e piuttosto semplici i mentor terminano qui proseguirò con alcuni video con una specie di visite guidate a siti che possono avere un interesse e conferenza formativa auguri a tutti